Hola Hiro, bentornato su questo canale e benvenuto in questo nuovo video. Tra l'altro location un po' diversa perché in questo momento ci troviamo a Tenerife e per il prossimo mese, per i prossimi mesi saremo in viaggio per ricercare nuove opportunità, stringere nuove partnership, insomma stiamo lavorando e rilassandoci anche un po' per avanzare, portare grandi novità sulla community e all'interno del club. In questo video però, secondo episodio della saga sulle domande e risposte. Quindi ho racchiuso, ho raccolto un po' di domande che ci sono arrivate sulla community, sui commenti del nostro canale YouTube e ho deciso di rispondere in questo video. Quindi, tra l'altro, se hai magari delle domande che non sono state ancora risposte, viene qui sotto nei commenti, scrivimele così che nel prossimo video magari risponderò anche alle tue. Partiamo subito! Allora, chiede Dario, ciao a tutti, vorrei creare un piano di accumulo di lungo periodo, 20 anni, su un ETF globale oppure su un globale e un USA tipo SP500. Cosa ne pensate? Punta REST solo sul globale o su entrambi? Allora, ottima domanda. Diciamo che questa è sicuramente una strategia adottata da molti, che però a me non fa impazzire. Questo perché? Perché molto spesso quando parliamo di ETF global, molti, o comunque alcuni ETF global anche molto utilizzati, hanno un impatto dell'America molto importante in chiave percentuale su quello strumento specifico. E quindi, insomma, la diversificazione va un po' a farsi benedire, tra virgolette. E quindi il mio suggerimento, comunque quello che io faccio, è andare a diversificare su due strumenti, global e mercati emergenti. In questo modo la diversificazione è sicuramente più ampia e mantenuta. Chiaro è che se poi hai già deciso e il tuo money management lo permette, e vuoi andare nella direzione di avere un globali, almeno seleziona un globali dove l'America non la fa così tanto da padrona, non è semplice, però ci sono. E poi, ok, vai pure nella direzione dell'SP500, in questo modo continui con il tuo piano, ma almeno hai un po' allineato la diversificazione. Sarebbe invece potenzialmente sbagliato andare a prendere un ETF global dove l'America occupa il 60-70%, anche in quel caso la diversificazione è pressoché nulla, paghi semplicemente il doppio delle commissioni e ha poco senso. Quindi, se vuoi andare in quella direzione, trova l'ETF giusto che è ben dilazionato, se invece vuoi qualcosa di più diversificato, potresti provare un globali o un SP, e poi effettivamente mercati emergenti. Altra domanda, questa volta di Massimo, che ci chiede, per chi non è ancora entrato su Bitcoin, è ancora un buon momento per investire? Allora, nel momento in cui registro questo video, Bitcoin batte 41.250 dollari, è fatto una crescita incredibile, e quindi quello che ci aspettiamo tutti potenzialmente è che prima o poi un ritracciamento dovrà esserci. Sarà fisiologico, in ogni mercato in cui abbiamo avuto una crescita esponenziale, abbiamo avuto poi un ritracciamento più o meno considerevole. Ecco, quello che mi sento di dirti è, aspetta potenzialmente questo ritracciamento, probabilmente vedremo prezzi migliori un giorno, quindi vedremo Bitcoin sopra i 41.250 dollari, ma vedremo anche prezzi peggiori, potenzialmente anche tra qualche settimana. Quindi il mio suggerimento è, aspetta un ritracciamento, magari metti un ordine pendente, entra al ritracciamento, per poi, se la tua visione temporale è quella di aspettarti, effettivamente, motivo per cui stai andando in questo investimento, un prezzo più alto, metti un target e rispettalo. Questo è molto importante, perché poi quando si è negli investimenti, soprattutto in investimenti così volatili come quelli di Bitcoin, è sempre importante rispettare quanto si è deciso in partenza, non quando si è un po' dentro le emozioni, dentro l'investimento, quello è sempre un casino. E questo quindi un po' in chiave generale. In chiave più tecnica, in chiave più precisa, ti dico quello che ho fatto io e perché. Personalmente qualche giorno fa ho venduto il 70% delle mie cripto, quindi più o meno tra un prezzo di 35.000 dollari e 40.000 dollari. Questo perché? Perché avevo già raggiunto il mio moltiplicatore in termini di pricing, perché sono entrato a un prezzo piuttosto basso, tra gli 8.000 e 9.000 euro, gli ultimi acquisti, i primi li ho fatti molto molto tempo prima, e quindi per me il moltiplicatore è stato raggiunto. Io personalmente, quando faccio un investimento ad alto rischio, e Bitcoin lo considero tutt'oggi un investimento ad alto rischio, voglio avere un moltiplicatore almeno del per 2, per 3. Ebbene, oggi quindi questo investimento per me ha senso entrando oggi, solo se mi aspettassi Bitcoin a 120-160.000 dollari. Ebbene, sì, mi aspetto Bitcoin un giorno a 120-160.000 dollari, però sono convinto che c'erà un ritracciamento. Quindi per me è più conveniente aspettare, magari se arriveremo mai a 25.000 dollari, se torneremo mai a 30.000 dollari, cosa che credo sia assolutamente probabile, in quanto poi il mio moltiplicatore, che voglio dagli investimenti ad alto rischio, diventa più fattibile e raggiungibile nel breve periodo. Perché se compro a 25.000 dollari e voglio fare 1x3, devo rivedere Bitcoin a 75.000 dollari, cosa che se comprasse adesso invece sarebbe molto più in là, quindi molto più in là del tempo, e servirebbe molta più capitalizzazione a Bitcoin per farmi raggiungere il target. Questo è molto importante, questo è cosa fare io su Bitcoin, e come investo io sugli investimenti ad alto rischio, quale per esempio sono le criptovalute, i penny stock e altri strumenti, così volateli comunque. Altra domanda, questa volta di Fabio, che ci chiede se qualcuno ha buone idee o progetti, ma non li realizza, non per mancanza di fondi, ma di risorse in termini di conoscenze e competenze. Come si fa a presentare questa idea a terzi, ed essere certi di rimanere nel progetto? Allora, dipende, dipende sicuramente da quant'è l'energia, o meglio, qual è il tuo contributo, che deciderai poi di mettere in questo progetto, per poi farlo partire e sviluppare a terzi. Mi spiego meglio. Se prendi questa idea e pensi di suggerirla a un team che ci mette soldi, ci mette tempo, ci mette energie, ci mette contatti e la sviluppa, e di avere una percentuale magari di quell'idea, secondo me è da folli, è da pazzi, perché oggi le idee valgono assolutamente zero, in quanto ognuno di noi, ogni settimana, ha l'idea del secolo, ha l'idea rivoluzionaria, l'idea che ci può fare diventare ricchi, milionari, e anche miliardari. Il problema qual è? È che le idee oggi, appunto, ce le abbiamo tutti, ma cosa conta? Conta l'execution, conta prendere quell'idea, farsi il mazzo per 5-10 anni e svilupparla, portarla sul mercato, quello ti fa diventare ricco, non l'idea. E quindi dobbiamo un po' uscire da questo concetto che, oddio, ho vinto l'idea, devo essere geloso, me la proteggo, se la sviluppo qualcun altro, voglio una percentuale, è sbagliato. In modo vecchio e oggi non vale assolutamente più niente. Diverso è se tu metti l'idea, magari, ok, non vuoi mettere tempo e non vuoi mettere competenze, hai detto, va bene, ci sta benissimo, puoi mettere però l'idea e il capitale per almeno far partire l'idea. Puoi mettere il primo budget per andare a dare il boost a questa idea, a questa partenza iniziale che deve avere l'idea e poi il team magari la porterà avanti. Oppure puoi mettere dei contatti che possono servire al team che svilupperà l'idea per andare a svilupparla. Quindi puoi mettere, puoi far sì che il team si incontri e in quel caso fare un po' da project manager tra virgolette dedicando meno tempo. Ma se non dedichi niente, quindi non dedichi capitale, non dedichi tempo, non dedichi energie, ecco, secondo me è normale che verrai escluso dal progetto perché non è più un tuo progetto, le idee di oggi ce le abbiamo tutti. Diverso è, visto che hai fatto un appunto all'interno della tua domanda, io comunque ho il capitale, se metterai del capitale, anche poco capitale che è quel che basta per far partire il progetto. Magari i primi 20, 30, 50 mila euro, poi ci sarà, non so, un direttore finanziario che andrà avanti a fare fundraising. Ecco, quello va bene perché hai messo delle risorse, hai messo dell'energia che si chiama denaro. Allora, Luca chiede, sto facendo un piano di accumulo in Bitcoin da circa un anno, tra l'altro se hai iniziato circa un anno fa sicuramente sei in fortissimo profitto, quindi bravo Luca. Però chiede, ora però sto pensando di farlo anche su Stellar. Ha senso o conviene che io continui solo su Bitcoin? Ma allora, qui dipende sicuramente dal quanto sei incline alla tecnologia Stellar, quanto conosci il progetto e se pensi che avrà un prezzo più alto sicuramente comunque la storia, l'investimento attraverso piano di accumulo ti permette di avere sempre prezzi comunque ponderati e questo è sicuramente un'ottima strategia. Personalmente, considerando le criptovalute comunque un investimento ad alto rischio e non essendo così dentro al progetto di Stellar, io mi sentirei di farlo solo su quello che conosco, quindi su Bitcoin. Perciò, fatti più questo ragionamento. Quanto ti aspetti che possa raggiungere Stellar in futuro? Qual è il tuo rizzonte temporale? Qual è il tuo target price? E se queste informazioni ti portano con una buona certezza, o comunque con una certezza che inclina alla tua propensione di rischio a dire ok, ne vale la pena, bene, allora investi sicuramente quella del piano di accumulo, cioè comprare sempre la stessa somma può avere sicuramente senso. L'altra domanda invece sulla quale so risponderti sicuramente in maniera più tecnica è dove li tengo dopo questi Stellar? Ma secondo me comprati un ledger, io ho tutto sul ledger, diviso in diversi ledger, il ledger che cos'è? è una chiavetta dove sostanzialmente noi deteniamo le chiavi private e possiamo custodire i nostri coin e sono nostri a tutti gli effetti, quindi non sono sugli exchange dove può succedere qualunque cosa. Bene, l'edger se non sbaglio comunque ha la possibilità anche di installare un wallet Stellar e quindi poi li prendi, li fai un withdraw dal tuo exchange e li porti e li custodisci all'interno del tuo ledger, così sei tranquillo al 100% che qualunque cosa possa accadere ai vari exchange tu ce li hai e poi puoi farci quello che vuoi, sono tu a tutti gli effetti, altrimenti occhio. E allora, ultima domanda che fa così, qual è stato il tuo investimento più strano che hai fatto? Se si può raccontare qualche aneddoto. Allora, bellissima questa domanda, bellissima perché io sono un fan degli investimenti strani, nel senso che chi mi conosce sa che diversifico tantissimo e mi piacciono gli investimenti alternativi, investimenti magari che nascono da un qualcosa che non è propriamente adatto per fare l'investimento ma dove poi se andiamo ad investire possono nascere ottime opportunità. In questi anni infatti ho investito praticamente su ogni cosa. Ho investito magari creando delle royalties, ho investito per esempio in alcuni settori dove c'erano alcuni gap nel mercato, alcune latenze che mi hanno permesso di monetizzare, massimizzare di fatti quel bug che c'erano in alcune situazioni. Ti faccio un esempio specifico, qualche anno fa avevo trovato all'interno di alcune piattaforme finanziarie che c'era della latenza temporale oppure alcuni strumenti che per qualche stramotivo non facevano rollover e quindi mi permettevano di andare a far profitti praticamente certi. Alcune strategie le sto ancora portando avanti. Questo però per dirti che ho investito praticamente in ogni cosa e mi piace investire in questo, quindi fare test e diversificare. Un investimento però molto particolare che ricordo è stato un paio di anni fa dove ho investito per la prima volta in un investimento che non mi convinceva ma consapevolmente. Infatti ho investito su una realtà, una realtà tecnologica, una realtà in criptovalute sostanzialmente dove c'era qualcosa che non mi tornava quindi non mi tornava particolarmente il sottostante non mi tornava particolarmente il possesso di alcune dinamiche però ci ho investito volutamente non tanto qualche migliaio di euro appositamente. Questo perché? Perché sapevo che qualunque cosa fosse successo con l'investimento mi avrebbe permesso comunque di restare in contatto con alcuni ambienti che poi in futuro potenzialmente mi avrebbero potuto aprire delle porte o comunque con cui sarebbero potute nascere collaborazioni. Ed effettivamente così è stata. Tra l'altro poi l'investimento in realtà è andato benissimo è stato uno degli investimenti migliori della mia vita ma questo tra virgolette è stato un effetto collaterale. Questo per dire che cosa? Per dire che in realtà oggi ci sono delle opportunità o meglio si può investire in alcune iniziative magari per un ritorno che non è strettamente economico ed immediato ma può essere un ritorno di altra natura. Anche quello è un investimento infatti lo considero forse uno degli investimenti più strani a prescindere poi dal risultato perché mi ha permesso poi di fare un perre creando delle collaborazioni che altrimenti non avrei potuto avere se non avessi fatto quell'investimento un po' particolare. Quindi detto questo ho risposto un po' all'ultima domanda se hai altre domande che non sono state qui risposte fammene qua nei commenti così che magari facciamo un terzo act di questa serie domande e risposte e se non sei ancora nella community entra nella community investito se lo trovi sempre qua sotto il link e noi ci vediamo al prossimo video ciao